ciao a tutti oggi mi trovo a fortino supermercato enorme vi faccio vedere cosa abbiamo qui sono arrivati le vette kinder ci sono due lingue ufficiali l'inglese e il francese in ontario si parla l'inglese solo in chebec si parla il francese però ogni confezione di cibo di qualsiasi altra cosa viene scritta che in inglese che in francese questo lo abbiamo in francese a presto 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 Grazie a tutti. 50 dollari dopo torno a casa.